Con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, con il quale ovviamente già c'è diciamo uno storico di rapporti insieme al Consiglio Europeo, Italia e Paesi Bassi vivono un periodo molto molto proficuo nei loro rapporti bilaterali, stato suggellato anche dalla recente visita del Presidente Mattarella. Con il primo ministro Rutte entrambi abbiamo avuto nelle nostre prime occasioni di lavoro insieme un approccio molto concreto e molto pragmatico ai principali dossier in discussione al Parlamento Europeo, quindi anche se non sempre le posizioni dei due Paesi nel rispetto dei reciproci interessi nazionali sono esattamente le stesse, voglio dire che mi sono trovata di fronte una persona lucida, pragmatica, concreta, che ha voglia di trovare soluzioni, che è lo stesso approccio che l'Italia sta avendo e che abbiamo discusso ovviamente anche nella giornata di oggi. Penso a uno dei temi proprio più complicati del dossier europeo che è il tema delle migrazioni, noi abbiamo discusso per esempio nell'ultimo Consiglio Europeo con Mark Rutte in maniera molto pragmatica e forse qualcuno è stato stupito dal fatto che quando siamo entrati nella riunione del Consiglio Europeo avevamo una visione comune sul fatto che l'Europa dovesse affrontare questo problema come tema europeo e che dovesse farlo non in base alla contrapposizione tra movimenti primari e movimenti secondari ma partendo dalla difesa dei confini esterni e quindi dalla lotta ai trafficanti, tema che per quello che riguarda l'Italia ma spero non solo diviene ancora più rilevante e importante anche all'indomani della tragedia che si è consumata a Cutro sulla quale voi sapete che domani il Consiglio dei Ministri terrà una riunione proprio per affrontare il tema migratorio, sapete anche e lo sa ovviamente il Presidente Rutte, il primo Ministro Rutte che io ho scritto su questo una lettera alle massime istituzioni europee, al Presidente von der Leyen, al Presidente Michel e al Presidente di turno dell'Unione Europea, del Consiglio europeo Christensen. Sono soddisfatta della risposta che avete visto che è arrivata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che tiene in considerazione, riprende le conclusioni che avevamo avuto nell'ultimo Consiglio europeo nelle quali si conferma un cambio di approccio rispetto alla questione migratoria, la consapevolezza di un problema europeo che va affrontato a livello europeo, la consapevolezza della necessità di combattere i traffici e i trafficanti di vite umane anche per salvare la vita delle persone, la cooperazione con i Paesi africani. Questo è stato anche questo, un tema discusso con il primo Ministro Rutte. Noi su questo siamo d'accordo, riteniamo che il prossimo Consiglio europeo, come sapete a fine mese, debba fare dei passi in avanti concretamente sulla materia migratoria, particolarmente sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e della cooperazione con i Paesi africani. Anche come lo è stato nell'ultimo Consiglio europeo, come sapete l'Italia auspica da questo punto di vista risposte coraggiose, il che per noi significa soprattutto flessibilità nell'utilizzo dei fondi esistenti per non creare disparità nel mercato unico nel momento in cui si sceglie di intervenire su un allentamento delle regole sugli aiuti di Stato e poi ovviamente comincerà il dibattito sulle regole della governance, nelle quali credo che si debba tenere in considerazione anche le scelte che stiamo facendo per aiutare le nostre imprese. Noi crediamo che le nuove regole sulla governance, in particolare il patto di stabilità e crescita, debbano tenere maggiormente in considerazione il tema di un equilibrio tra la stabilità e la crescita, che sono entrambi necessari. Ovviamente il Primo Ministro Rutte e io abbiamo parlato anche della guerra di aggressione russa all'Ucraina. Siamo due nazioni che sono in prima fila sul sostegno all'Ucraina, per cui da questo punto di vista ci troviamo assolutamente dalla stessa parte e abbiamo discusso di come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all'Ucraina, che continuerà ovviamente sia a livello bilaterale sia a livello multilaterale a 360 gradi. Marco e io abbiamo ovviamente discusso anche delle relazioni bilaterali tra Italia e Paesi Bassi. Abbiamo discusso di lotta alla criminalità organizzata, sulla quale io sono molto orgogliosa del fatto che i Paesi Bassi considerino il modello italiano nella lotta alla mafia un modello al quale fare riferimento, ma oggi noi sappiamo che il tema è internazionale, che le reti si stanno allargando e allungando e che quindi è fondamentale ovviamente che la cooperazione avvenga anche e soprattutto a livello internazionale. Su questo anche siamo pronti a collaborare. I nostri rapporti economici sono molto forti, parliamo di più di 43 miliardi di euro di interscambio, un dato che è migliorato nel 2022, i Paesi Bassi sono il primo investitore in Italia, in Olanda operano oltre 500 aziende italiane, oltre 16 mila dipendenti, sono molti i settori sui quali pensiamo di avere margini di crescita in questo nostro rapporto bilaterale, penso infrastrutture, energie rinnovabili, lo spazio, le frontiere delle scelte strategiche sono tutte frontiere che ci vedono coinvolti entrambi. Ovviamente intendiamo anche implementare la nostra collaborazione nel settore dell'industria della difesa, perché su questo i nostri rapporti e la nostra cooperazione sono stati fin qui molto profigui, molto forti e chiaramente con la situazione internazionale che viviamo è sempre più importante che su queste materie si riesca ad essere uniti. Quindi io ringrazio Mark per questa visita, lo ringrazio per la sua cortesia e per il suo pragmatismo, sono molto contenta del fatto che si riesca insieme a trovare soluzioni concrete ai temi strategici e centrali del nostro tempo. Grazie Mark. Fare una visita a Roma è sempre un grande piacere e il fatto che in più sono qui durante la giornata internazionale della donna accanto al primo primo ministro d'Italia, donna, è una cosa che è ancora più speciale. Sono veramente felice di essere qui, è il mio Il mio primo incontro di lavoro al Presidente Giorgia Meloni da quando ha iniziato l'anno scorso è una persona che è molto solida, costruttiva, molto pragmatica e lo apprezzo molto. Durante l'ultimo Consiglio abbiamo parlato a lungo insieme e abbiamo visto che è importante integrare maggiormente e scambiare posizioni sull'integrazione europea. Anche il colloquio che abbiamo avuto oggi sarà di supporto al prossimo Consiglio europeo perché se vogliamo essere il motore, il tandem per far funzionare ulteriormente il motore, per non farlo fermare, allora durante il Consiglio europeo dobbiamo implementare quello che abbiamo detto a gennaio. Ma prima di tutto Ucraina. Anche qui devo dire che ho grande ammirazione per la responsabilità che fa vedere l'Italia nel suo sostegno all'Ucraina, anche per adesso ma anche a lungo termine. Anche la visita del Presidente Meloni all'Ucraina qualche settimana fa è importante. Noi diamo un messaggio unito, unico e che in Europa siamo uniti contro la Russia. L'Ucraina deve vincere e la Russia deve perdere sia per noi che per la nostra sicurezza e per loro chiaramente. Poi abbiamo parlato a lungo sulla migrazione. La migrazione richiede un approccio europeo efficiente. Ci sono misure nazionali ma a livello europeo è importante. E questo terribile naufragio che c'è stato la settimana scorsa con decine di persone annegati ha insistito, ha dimostrato maggiormente l'urgenza di prevenire questo tipo di tragedia, di dover fare una lotta unita contro i trafficanti di esseri umani. Dobbiamo demolire questo modello del business disumano terribile. Ecco perché è importante aver fatto un passo in avanti durante il Consiglio europeo per fare degli accordi. perché abbiamo visto che la migrazione secondaria e primaria devono essere affrontate insieme. Quindi durante il prossimo Consiglio dobbiamo lavorare duramente per realizzare queste azioni, cioè effettuare gli accordi già presi da tempo. e quindi anche il patto che si trova davanti al Parlamento sull'immigrazione deve essere effettuato. E dobbiamo lavorare con i paesi terni, per esempio fare dei partenariati oppure armonizzare la politica sui visti. e in effetti insieme alla Commissione europea dobbiamo essere più presenti in Africa. Dobbiamo prevedere delle visite dei commissari europei e dei ministri degli interni. Per noi sarà il sottosegretario Van den Berghe degli interni che andrà ai paesi di uscita o di transizione. Noi vogliamo vedere cosa possiamo fare per aiutare, per far raggiungere degli accordi. Questo è il quarto punto che proviene direttamente dallo scambio di lettere tra il Primo Ministro Meloni e il Presidente Van der Leyen che bisogna arrivare a un contesto europeo. e anche questo abbiamo visto che è il risultato concreto dopo questo disastro che c'è stato con il naufragio. E poi domani i ministri degli affari esteri e di migrazione si incontreranno in Europa e concretamente parleranno di tre punti centrali. In primo luogo, come possiamo fare in modo che questo sistema degli scafisti, questo sistema cinico possa essere smontato? Come possiamo fare per migliorare le operazioni delle entità private? e cosa possiamo fare per fare questa implementazione nell'implicazione della differenza tra migrazione primaria e secondaria? È una corresponsabilità dei nostri paesi. Il paese di primo arrivo, il paese di transito, dobbiamo trovare degli accordi. Chiaramente i Paesi Bassi e l'Italia non saranno d'accordo su tutto, ma è importante che dobbiamo collaborare e possiamo anche collaborare bene a livello umano tra persone, tra i paesi del nord e del sud dell'Europa e dobbiamo essere questo motore che facciamo in modo di continuare a funzionare per arrivare a delle soluzioni. Poi abbiamo altri punti, l'Italia è un alleato di primo ordine per l'Olanda nell'Unione Europea, ma anche nella Nato. Come ha detto, l'Italia per l'Olanda è uno dei più importanti partner commerciali nel top 10 degli scambi e poi continua a crescere questo fatto. Quindi è molto piacevole e utile che abbiamo potuto parlare di questi argomenti. Di nuovo, tante grazie per questo benvenuto caloroso e forse faremo anche un viaggio insieme in Africa per cercare di farli raggiungere questi accordi. Sarei molto contento per il momento. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, grazie, arrivederci.